Partita anche questa finale a categoria G2 ed è un gomito a gomito tra il San Giovanni Lumatotto e l'opleta del terzo circuito da Pescantina, Pescantina passa a montaggio, alla scambola Zanandreis a seguire Elia Salleone dell'Aletta San Lumatottino e ancora in Verona con Alessandro Gaule in terza posizione. Ciclisti con giottese in questo momento Elia Banchino alla quarta, a seguire ancora Divertas Lumatottino che si avvantaggia del terzo posto in 166 piedi di Borsacomani e intanto Alessandro Zanandreis taglia il traguardo.